Salve a tutti. Proprio mentre si cerca di trovare in sede parlamentare la soluzione migliore per ovviare all'abolizione di quota 100 e quindi rendere meno amara la pillola per migliaia di lavoratori, arriva un'interessante proposta da parte del presidente dell'Inps Tridico, ossia la possibilità di procedere al riscatto gratuito del periodo di studi universitari. In particolare la proposta dell'Inps riguarderebbe tutti coloro i quali hanno frequentato un corso di studi universitario conseguendo una laurea i quali potrebbero riscattare il percorso di studi gratuitamente. Questo consentirebbe una migliore posizione dell'Italia nel contesto europeo visto che addirittura in Germania è possibile riscatto gratuito fino a due anni della scuola secondaria di secondo grado e costituirebbe uno stimolo per i ragazzi a proseguire gli studi universitari. Di certo non è una soluzione a costo zero perché prevederebbe una spesa pari a 4-5 miliardi di euro l'anno per le casse dello Stato e non è poco. Attualmente la possibilità di riscattare il periodo di studi universitari è a titolo oneroso e riguarda riguarda sia i diplomi universitari, sia i diplomi di laurea, sia i corsi di dottorato di ricerca, la laurea triennale, la laurea specialistica, anche i titoli accademici AFAM. Sono tutte possibilità di riscatto ai fini pensionistici e quindi ottenere il riconoscimento dei periodi studio ai fini pensionistici che naturalmente hanno dei costi al momento abbastanza elevati. Quindi la possibilità proposta dal presidente dell'Inps di renderlo gratuiti sarebbe un'ottima chance per quanti ancora sono all'università o per quanti ancora non abbiano riscattato il percorso di studi. Vedremo come andranno queste proposte in sede parlamentare. Grazie e vi invito a seguire i nostri canali social e il nostro sito per i continui aggiornamenti. Arrivederci. Grazie a tutti.